Bene, buonasera. Stasera faccio una lezione trasversale, quindi non è dedicata a una classe in particolare. La motivazione viene da una mia studentessa che si è appassionata a alcune missioni spaziali, di cui ha visto dei documentari divulgativi e poi a quel punto ha cercato di entrare un po' più nel dettaglio di queste missioni spaziali e si è imbattuta in una tecnica che viene normalmente usata nella progettazione di missioni al di fuori dell'orbita terrestre che prende il nome di effetto fiondo gravitazionale, quale volte anche volo assistito gravitazionalmente. La prima volta che ho sentito parlare di effetto fiondo gravitazionale avevo circa nove anni e stavo seguendo da bambino la vicenda del Voyager. Voyager 1 e Voyager 2, queste due sonde eccezionali che furono inviate alla fine degli anni 70 e che hanno fatto questo grand tour della parte esterna del Sistema Solare, quindi i quattro giganti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno e per me da bambino non ne capivo assolutamente niente di tutto questo, ma aveva un effetto profondamente suggestivo. Allora, che cos'è l'effetto fionda? Intanto la motivazione. Normalmente per progettare una missione spaziale servono dei cosiddetti delta V, cioè bisogna incrementare o decrementare a seconda del tipo di missione la velocità che il nostro velicolo ha per inserirsi nella sua orbita, diciamo, di viaggio, l'orbita che lo porterà ai corpi celesti in cui siamo interessati a farlo arrivare. Allora supponiamo per esempio che questo sia il Sole, quindi stiamo parlando di missioni all'interno del Sistema Solare, supponiamo che questa sia la Terra e che questa sia la distanza Terra-Sole, ok? Quando la sonda lascia la Terra e quindi si libera del campo gravitazionale terrestre superando la sua velocità di fuga, si trova comunque in un'orbita all'incirca circolare intorno al Sole con una velocità orbitale che è praticamente la stessa della Terra. Le velocità orbitali, se vi ricordate, si possono calcolare facilmente con questa relazione che si ottiene eguagliando la forza centripeta necessaria a mantenere un'orbita di raggio R, un'orbita circolare di raggio R, alla forza gravitazionale newtoniana. La massa dell'oggetto si semplifica quindi la velocità orbitale della Terra intorno al Sole e la velocità orbitale di una sonda intorno al Sole sono le stesse, non dipendono dalla massa. Qui, scusatemi, c'è un R quadro, R, il quadrato si semplifica e da questo otteniamo la nostra velocità orbitale, ok? Ora, se vogliamo spostarci dall'orbita terrestre e andare verso, per esempio, l'esterno, dobbiamo generare un ΔV, cioè un aumento della velocità, in modo tale che l'orbita si trasforma in un'orbita ellittica. Normalmente, anche se non sempre, anche perché non è tipicamente quella più vantaggiosa da un punto di vista energetico, ma teoricamente si può usare quello che si chiama un'orbita di trasferimento ellittica, orbita di trasferimento alla Hohmann. Cioè, immaginatevi che questo sia il Sole, immaginatevi che questa, appunto, sia la Terra, nella sua orbita facciamo finta circolare, noi sappiamo che è ellittica, ma va in circa circolare, e supponiamo, per esempio, di voler andare verso Giove. Ok? E quindi abbiamo una seconda orbita circolare. Questa è la Terra e questo è Giove. Quello che si fa è intraprendere il viaggio con un'orbita ellittica. Cioè, si aspetta che la Terra sia da questa parte, ok? Immaginiamo che ruoti in questa direzione. Immaginiamo che anche Giove ruoti in questa direzione. Chiaramente le velocità orbitali sono diverse, perché, vedete, dipendono dalla distanza. Quindi la distanza di Giove è molto più grande rispetto alla Terra. Dal centro di attrazione, quindi la velocità orbitali di Giove è più piccola. Allora, quello che succede è che, arrivati qua, si incrementa la velocità, quindi si avrà un ΔV, in modo tale che la sonda, non la Terra, qui stiamo parlando della sonda, che per un po' però è solidale alla Terra, quando siamo qua, lanciamo la nostra sonda e diamo un ΔV. Questo ΔV è sufficiente a modificare l'orbita, che non sarà più un'orbita circolare, ma diventa un'orbita ellittica, che prende appunto il nome di orbita di trasferimento. In un video per la mia terza C di quest'anno, ho messo tutti i dettagli della manovra, ok? Se non si fa nulla, arrivati qua, l'orbita ha una velocità più piccola rispetto alla velocità orbitale alla distanza di Giove, quindi torna in un'orbita di rientro libero alla sua posizione di partenza. Se qui però opero un secondo ΔV, un'ulteriore variazione di velocità, ecco che l'orbita viene circolarizzata e quindi entro, diciamo, in un'orbita parallela, tra virgolette, a Giove, cioè entro nell'orbita e quindi nel possibile raggio d'azione di Giove. Quindi questo è un trasferimento di tipo orbitale. Ora, quello che succede facendo i calcoli, e ripeto, i ΔV li trovate in un video precedente per la terza C, quindi chi di voi dovesse essere curioso o curiosa trova tutti i dettagli. Questi ΔV di solito sono molto alti, sono grandi, quindi. E' difficile che si riesca a ottenere i ΔV necessari a un particolare tragitto di missione usando solo propellente, quindi usando soltanto i motori a propulsione della sonda. Queste sonde sono piccole, di solito hanno anche dei piccoli propulsori, perché più la sonda ha una massa grande più è complicato metterla in orbita e inserirla nella sua orbita di trasferimento. Quindi di solito sono oggetti piccoli e quindi non hanno una quantità di carburante sufficiente a ottenere i ΔV richiesti. Ok? Qui, se qualcuno fosse interessato, in un'altra lezione ho parlato dell'equazione differenziale per il razzo. Ok? Quindi trovare, per esempio, qual è il rapporto di massa tra la massa del carico utile e la massa del carburante volendo ottenere una certa ΔV. Normalmente questo tipo di costi sono eccessivi, proibitivi per una missione. Quindi bisogna trovare una tecnica per, per esempio, aumentare la velocità o in altri casi diminuirla utilizzando qualche cosa che non sia il propulsore della sonda. Ed entra in gioco quindi l'effetto fiondo gravitazionale. L'effetto fiondo gravitazionale sfrutta altri pianeti presenti nel sistema solare e utilizza il loro moto, perché i pianeti girano intorno al Sole, per acquistare velocità a spese essenzialmente della velocità del pianeta. Siccome il rapporto di massa, adesso farò il calcolo molto semplificato, però è un calcolo che fa capire il meccanismo, siccome il rapporto di massa tra la sonda e il pianeta è estremamente piccolo, cioè la sonda ha una massa molto più piccola del pianeta che usa per fare l'effetto fionda, quello che succede è che il pianeta essenzialmente va avanti indisturbato e la sonda invece riceve un delta V piuttosto consistente. Per esempio appunto la sonda Voyager ha usato un effetto fionda con Giove per essere sparata diciamo verso le orbite più esterne, quindi poi Saturno e ha avuto altri vari effetti fionda. Gli effetti fionda possono essere utilizzati sia per andare verso l'esterno ma anche per andare verso l'interno dove il problema è l'opposto, cioè devo rallentare. Qui ho troppo aumento angolare rispetto alle orbite interne del Sistema Solare. Allora, qual è il meccanismo? E ripeto, adesso farò un caso semplificato e assolutamente non realistico, ma fa capire qual è il meccanismo con cui una sonda può acquistare velocità a spese del pianeta. Il meccanismo è molto semplice e può essere compreso con un caso limite. Immaginiamo che questo sia il pianeta che vogliamo sfruttare per l'effetto fionda. Quindi questa è la nostra fionda. E supponiamo che questo pianeta viaggi a una velocità W sulla sua orbita. Quindi questo non va dritto, va in un'orbita circolare. Ma l'interazione con la sonda avviene di solito in tempi così piccoli che possiamo approssimare la traiettoria del pianeta a una traiettoria rettilinea. Immaginiamo poi di avere la nostra sonda. questa è la nostra sonda che si muove in questa direzione a velocità V. Ok? E vogliamo sfruttare il pianeta per cui grazie al suo campo gravitazionale la sonda curva e riesce da questa interazione da questa parte con una velocità che a questo punto chiamiamo allora chiamiamo così V1 e W1 e quando la sonda esce avrà una velocità V2 e dopo l'incontro il pianeta nel frattempo si è spostato supponiamo che arrivi qua il pianeta avrà una velocità W2. Ok? Quindi 1 prima e 2 dopo l'interazione tra la sonda e il pianeta. Immaginiamo che la sonda abbia una massa MP e il pianeta ha una massa M grande. Vogliamo cercare di determinare V2. Facciamo alcune ipotesi. La prima ipotesi è che in questa interazione si conserva la quantità di moto. Cioè immaginiamo che il sistema sonda-pianeta questo è il nostro pianeta la sonda e il pianeta siano un sistema isolato. Questo non è del tutto vero perché è chiaro che nel sistema solare tra le altre cose c'è il sole e tutto ma se l'interazione dura poco possiamo immaginare isolato. Quindi la prima ipotesi è che si conserva la quantità di moto. La quantità di moto si conserva. È come se fosse vedete come se fosse un urto di quelli che abbiamo studiato in terza un urto tra la sonda e il pianeta solo che non si toccano l'urto viene mediato dalla forza di attrazione gravitazionale. La seconda ipotesi questa più realistica rispetto alla prima è che si conservi anche l'energia l'energia si conserva cioè sia un urto elastico questo è più realistico perché nello spazio normalmente non ci sono forme di dissipazione di attrito ed è più realistico immaginare che l'energia totale del sistema si conservi. Quindi si tratta essenzialmente di fare gli stessi calcoli che avevamo fatto in terza per gli urti elastici. Alcune considerazioni ulteriori prima di fare il calcolo che è molto semplice ci sarebbe nell'energia da considerare sia l'energia cinetica sia l'energia di interazione gravitazionale tra questi due corpi ma se immaginiamo che la sonda arrivi da molto lontano e poi dopo l'urto vada dopo l'interazione vada molto lontano siccome l'interazione gravitazionale l'energia potenziale gravitazionale è gmm fratto la distanza quando la distanza è grande l'energia potenziale è molto piccola quindi possiamo trascurare l'energia potenziale cioè possiamo immaginare che il corpo parta da così lontano che l'unica energia che è interessante in questo punto sia l'energia cinetica e quando esce succede la stessa cosa quindi energia si conserva useremo soltanto l'energia cinetica ok quindi sono alcune approssimazioni ma queste ci fanno capire bene adesso il meccanismo allora impostiamo le due equazioni avremo che prendiamo pure come positiva il verso di sinistra avremo quindi che meno mv più mw1 sarà uguale a mv2 più mw2 quindi la quantità di moto iniziale della sonda che è negativa perché va verso destra più la quantità di moto iniziale del pianeta deve essere uguale alla somma delle quantità di moto dopo l'interazione dopo sono entrambe positive perché vanno verso sinistra e poi abbiamo la conservazione dell'energia cinetica più un mezzo m w1 al quadrato uguale un mezzo mv2 al quadrato più un mezzo m w2 al quadrato notate che un mezzo un mezzo un mezzo un mezzo si semplifica allora questa si può risolvere in vari modi un trucco che alle volte è molto utile da utilizzare è cambiamo la seconda in una maniera un po' più furba portiamo i termini che contengono la massa m grande a sinistra e i termini che contengono la massa m piccola a destra e otteniamo una differenza di quadrati cioè otteniamo che m w1 al quadrato meno w2 al quadrato è uguale a m w2 al quadrato meno w1 al quadrato giusto? ora la differenza dei quadrati la possiamo riscrivere come m w1 meno w2 che moltiplica w1 più w2 e da questa parte avremo m che moltiplica w2 meno w1 e w2 più w1 e la prima equazione quindi questa è la seconda quella di conservazione dell'energia cinetica la prima facciamo un'operazione analoga portiamo i termini con la massa m grande a sinistra e quindi abbiamo m w1 meno w2 uguale se portiamo gli altri a destra attenzione qui è un segno meno quindi diventa più w1 più w2 se utilizziamo questa seconda nella prima voi vedete che questo m w1 meno w2 e questo m piccolo w2 più w1 si semplificano quindi questo e questo si semplificano e quindi ottengo w1 più w2 uguale a w2 meno w1 questo ha il grosso vantaggio che adesso se metto a sistema questo con questo queste due sono due equazioni lineari sono più facili da in qualche modo risolvere evito di passare attraverso equazioni di secondo grado in particolare da questa ricavo che w2 è uguale a w2 meno w1 meno w1 e la vado a sostituire qui dentro e quindi ottengo m w1 meno m adesso devo mettere questa cosa qua quindi v2 più m v1 più m w1 e a destra abbiamo m v1 più m v2 vedete che l'unica incognita che è rimasta è v2 perché tutte le altre sono valori che conosciamo allora portiamo i termini che contengono v2 da una parte quindi otteniamo m grande più m piccolo v2 uguale uguale e da questa parte possiamo scrivere m grande v1 ah non c'è anche questo quindi scusate m meno m piccolo v1 e poi ho questo e questo quindi più 2 m w1 raccogliamo una m qui e una m qui grande quindi abbiamo m che moltiplica 1 più m fratto m v2 uguale 1 meno m fratto m v1 più 2 w1 questo qui ho raccolto scusatemi una m e anche qua c'era una m questa m questa m questa m si semplificano divido e finalmente ho il risultato w2 lo posso scrivere con 1 meno m fratto m v1 più 2 w1 fratto 1 più m fratto m questa è la velocità della nostra sonda positiva cioè verso sinistra vedete questa la nostra velocità della sonda dopo l'interazione col pianeta ora siccome possiamo immaginare che m fratto m sia molto minore di 1 ok perché la massa della sonda è molto più piccola della massa del pianeta questo termine è circa 1 ok e questo termine è circa 1 e quindi quello che otteniamo è che v2 è circa v1 più più 2 scusatemi 1 questo è molto più piccolo di 1 quindi tutto questo lo approssimiamo a 1 e tutto questo lo approssimiamo a 1 questo in realtà è un po' più piccolo di 1 e questo è un po' più grande di 1 quindi questo è il risultato approssimato se non volete fare l'approssimazione tenete questi valori questo è un valore però indicativo e dall'altra parte chiaramente potete poi tornare indietro e ottenere la velocità del pianeta v2 chiaramente se w2 scusatemi se v2 è v1 più 2 w1 sostituite qua dentro vedrete che w2 è circa w1 questo cosa ci dice che dopo questa interazione se il rapporto tra le masse è molto molto piccolo il pianeta va circa alla stessa velocità con cui andava prima dell'interazione quindi il passaggio della sonda non influenza essenzialmente poi l'orbita del pianeta come è intuibile ma la sonda ha acquistato rispetto alla velocità di partenza due volte la velocità del pianeta quindi abbiamo un delta v della sonda dato da due volte la velocità orbitale del pianeta che non è poco ok quindi abbiamo la possibilità di ottenere tra virgolette gratis un aumento di velocità senza utilizzare motori il quid qui è che sebbene queste siano approssimate in quelle vere in realtà il pianeta ha subito una piccolissima variazione di velocità un piccolissimo rallentamento quindi v2 w2 scusatemi è leggermente più piccolo di w1 quindi l'energia necessaria per aumentare la velocità della sonda l'abbiamo tolta dall'energia essenzialmente di moto del pianeta e quindi dall'energia gravitazionale per il teorema del viriale fatto sta che però in buona approssimazione siamo riusciti a estrarre velocità sfruttando il pianeta allora vedete proprio una specie di fionda il pianeta che si muove verso sinistra trascina con sé la sonda e la rilancia sempre verso sinistra a velocità maggiore nella pratica non sono mai orbite di questo tipo cioè che vanno verso il pianeta perché escono nella realtà di solito abbiamo il nostro pianeta che si muove nella sua orbita e la sonda magari arriva così e poi fa qualcosa del genere il guadagno in questo caso non è così alto qui abbiamo un guadagno molto grande il doppio il delta v è il doppio della velocità del pianeta ok se faccio una un'orbita più plausibile tipo questa il guadagno è minore ma comunque c'è e quindi riesco a sfruttare l'effetto fionda per ottenere un incremento di velocità va bene questo era più o meno il meccanismo chiaramente chi di voi fosse interessato o interessata ad alcuni dettagli può scrivermi o può provare anche a fare qualche calcolo per esempio andare a vedere quanta velocità posso ricavare da un effetto fionda per esempio con Giove o con altri pianeti del sistema solare nelle missioni moderne normalmente si sfruttano più passaggi di effetto fionda per incrementare sempre più la velocità ok e quindi è difficile che si facciano orbite di trasferimento alla Oman dirette ma di solito si sfruttano gli assist gravitazionali degli altri pianeti del sistema solare per stasera è tutto e buonanotte da tutti e tutte grazie grazie Grazie.